Avete mai pensato a quanto potente è la menzogna? La menzogna è potentissima finché viene creduta. Una menzogna creduta può compiere cose immense. Immaginate una scena che è una cosa reale che è successo tante volte cambiando dettagli. Quindi un uomo entra in una banca con un pacco e tiene la mano dentro e dice che c'è una bomba qui dentro e se non fate quello che dico lo faccio scoppiare. Allora in realtà non c'è una bomba lì dentro ma finché le persone nella banca, la guardia giurata che ha una pistola e tutti gli altri finché credono alla menzogna cosa fanno? Quanti soldi vuoi? Lui vi discono. Il potere di quell'uomo sta nella menzogna. Simulmente ci sono stati casi in cui uno ha usato una pistola finta per fare un rapino o qualcosa del simile. Il potere di chi faceva la rapina era nella menzogna. Finché una menzogna viene creduta può avere grandi poteri, poteri che svanisce quando la menzogna viene smascherata. Se noi crediamo una menzogna, per quanto riguarda come allevare i figli, per quanto riguarda le nostre capacità, per quanto riguarda un rapporto, se noi crediamo una menzogna, quella menzogna ha lo stesso potere come se fosse la verità. Se noi viviamo in base ad una menzogna, viviamo male, seminiamo male, è tutto inutile. Avremo sofferenze inutili perché abbiamo scelto di credere a qualcosa di falso. Allora quanto è importante informarci attentamente, valutare i nostri ragionamenti per vedere se sono veramente veri. Tante delle menzogne che noi crediamo vengono dai nostri ragionamenti spagliati. Il fatto che a noi un ragionamento fila, ci autoconvinciamo, abbiamo tanti motivi per cui no è così perché c'è questo e c'è questo e c'è questo e c'è quello. Ci fila bene, ma può essere completamente falso. E quindi per non creare grandi danni nella vita, per non sprecare la vita, per non seminare male, per non soffrire inutilemente, abbiamo bisogno di confrontare i nostri ragionamenti con la verità di Dio per riconoscere e smascherare le menzogne che crediamo. Quando uno ti dice qualcosa, eh no, no, e tu si senti sotto pressione, che ti sta spingendo in una certa direzione. Allora se è un non credente che cerca di tirarti verso il peccato, è un discorso. Se sono credenti, anziché avere tutti i tuoi ragionamenti che spagliano, non è così, non è fattibile, è da valutare, se forse i tuoi ragionamenti non sono falsi. Non è detto, ma è da valutare attentamente. Nella Bibbia vediamo che Satana usa la menzogna come la sua arma principale. Infatti il potere di Satana è principalmente nella menzogna che mette nelle nostre menti. Se noi non valutiamo i pensieri che ci arrivano, ma li prendiamo come fossero veri, senza analizzarli attentamente secondo la verità di Dio, possiamo trovarci schiavi di peccati quando in realtà Cristo ci ha dato il potere di superare quei peccati. In Genesi 3 vediamo che Satana, tramite il serpente, usava la menzogna per tentare Eva e Radamo. Quando Eva diceva che Dio aveva detto che se avessero mangiato del frutto probito sarebbero morti, Satana dice, non è vero, non morerete. Addirittura, addirittura, se dovesse mangiare quel frutto, sareste come Dio. Un grande vantaggio. Quindi usava la menzogna, perché non era vero, per tentare loro. E anche la nostra carne ci tenta con le menzogne. A volte la nostra carne ci promette mari e monti. In realtà quello che ci permette è una menzogna. Parlavamo poco fa con un giovane del fatto che tanti giovani non vedono l'ora di uscire di casa. In America è normale uscire di casa. Finisci la scuola in qualche modo, a tutti i costi, tu trovi un appartamento per conto tuo. E tanti sognano questo. Ah, finalmente posso fare quello che voglio io. Sono menzogne. La libertà non è di fare quello che vuoi tu nella tua carne. Perché la vita che Dio ha stabilito è una vita dove il capofamiglia non è libero. La moglie non è libero. Se un uomo sta svolgendo bene il suo ruolo come capofamiglia, non è assolutamente libero. E' soggetto ai bisogni degli altri. E la nostra carne ci promette mille cose che non sono veri. Perciò dobbiamo imparare a non credere automaticamente ai nostri pensieri, ai nostri ragionamenti, perché molto spesso sono falsi. Se diamo retta a ragionamenti falsi, ci porterà su una brutta via. Semineremo male. Cammineremo in quel campo nelle tenebre, perché la luce è la verità. Una menzogna è tenebre. E tanti credenti camminano in tenebre, in certi campi della vita, perché non vogliono valutare certi aspetti della vita. Sono convinti che è così. Possiamo credere in tante menzogne diverse, ma oggi vorrei focalizzare su una menzogna molto comune, che quasi tutti i credenti credono a volte. Vorrei focalizzare su questa menzogna, qualche variazione, che ci fa continuare a peccare, quando ci crediamo, lo crediamo. Cioè, il peccato, la menzogna, scusate, la menzogna è questa. Spesso abbiamo un campo della vita in cui cadiamo spesso nel peccato. Può essere di atteggiamento, può essere di arrabbiarci, irritarci, potrebbero essere pensieri impuri, può essere mancanze di autocontrollo. Abbiamo un peccato, ci cadiamo spesso, e noi crediamo la menzogna che non posso cambiare. Noi crediamo, ma io sono così, sono cresciuto così, è sempre stato così in casa mia, e io sono così. Ho provato tante volte, tu non sai quante volte ho cercato di cambiare, e non riesco, non riesco. E arriviamo ad essere scoraggiati. Oppure, un altro aspetto di un peccato simile, abbiamo una situazione con un'altra persona che va male, e arriviamo al punto di credere, non cambierà mai, non cambierà, ho provato, tu non sai quante volte ho provato, e non migliora, no, 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 resterà così. Anche questo è una menzogna. Dobbiamo capire che quando crediamo a una menzogna, smettiamo di guardare a Dio. lo diciamo, sì, ma non ci crediamo più, quindi non guardiamo più a Dio in quel campo. Smettiamo, per dire la verità, di impegnarci, cioè, scusami, se io so che è una cosa impossibile, non è che mi impegno più, non di cuore. È inutile sprecare impegno in qualcosa che è impossibile che possa cambiare. A me non sembra così, a me. In questi casi, quando crediamo a una menzogna, non cerchiamo più l'aiuto di Dio, non di cuore, smettiamo di impegnarci, e quindi, ascoltatemi bene. Ascoltatemi bene. Quando tu credi che non riesci a superare un peccato, o se tu credi che una certa situazione non può cambiare, tu stai credendo a una menzogna. e non stai chiedendo con fede a Dio di intervenire, anche se preghi, non è con fede. E Giacomo, uno ci insegna che bisogna pregare con fede. Al punto che tu credi in menzogna, non hai più fede in quel campo della tua vita. Sei schiavo di quella menzogna. Allora, oggi vorrei guardare insieme alcuni versetti che già conosciamo, ma che possono aiutarci a riconoscere e superare queste menzogne. Il mio scopo è di aiutarci a superare dei peccati in cui siamo caduti da anni. Prego che vedremo che le cose possono cambiare, perché Dio è potente e non è limitato dal fatto che siamo caduti in un peccato da anni. Non è un limite per Dio. Il fatto che noi abbiamo cercato da anni a superare un peccato e invece continuiamo a cederci non è un problema per Dio. Anzi, Gesù dichiara che quello che è impossibile agli uomini è possibile per Dio e lo fa. Perciò guardiamo insieme i vari brani che possono aiutarci a ricordare che Dio è all'opera. se c'è una cosa da ricordare le cose possono cambiare. Non c'è situazione per quanto sembra impossibile che è veramente impossibile. Dio è il Dio dell'impossibile. Iniziamo guardando un brano che conosciamo bene secondo Corinzi 5 17 secondo Corinzi Corinzi 5 17 quanto è importante ricordare questa verità. Secondo Corinzi 5 17 dichiara se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco non dice alcune delle cose sono diventate nuove cosa dice tutte le cose sono diventate nuove questo versetto dichiara che quando uno è in Cristo una descrizione di uno che è stato battezzato nella morte di Cristo unito a Cristo nato di nuovo egli è una nuova creatura dichiara che tutte le cose sono diventate nuove non si tratta della capacità della persona a fare tutte le cose nuove si parla di quello che Dio fa non è l'uomo che cambia se stesso è Dio che cambia l'uomo l'opera della salvezza è un'opera di Dio la trasformazione che avviene in un uomo che è una trasformazione che dura tutta la vita è un'opera di Dio noi chiamiamo questa trasformazione la santificazione dobbiamo impegnarci con tutto il cuore ma è Dio stesso che inizia l'opera della salvezza ed è Dio che porta a compiamento l'opera della salvezza quindi quando Dio salva una persona fa sì che tutte le cose diventano nuove e perciò il fatto che tu sei caduto più volte nello stesso peccato non vuol dire che tu non avrai vittoria su quel peccato anzi abbiamo la parola di Dio che tutte le cose sono nuove perciò in questi casi dobbiamo continuare a pregare con fede non guardando alle circostanze non guardando alle nostre ripetute cadute ma guardando con fede a Dio che fa tutte le cose nuove tenete bene in mente che quando uno è in Cristo egli è una nuova creatura non è la stessa persona di prima quindi tu che sei credente non devi mai dire che tu sei nato e cresciuto con un certo peccato è così nella mia famiglia è sempre stato così ho cercato di cambiare ma è così no non devi mai dire quello perché tu sei una nuova creatura non importa come sei nato e cresciuto il Dio dell'universo il Dio onnipotente è all'opera in te sarà per la sua potenza che tu avrai la vittoria guardiamo ora ad Efessini 1 16 a 20 Efessini 1 16 a 20 conosciamo bene questo brano Efessini 1 16 a 20 che è una preghiera che Paolo fa per i credenti e quindi fa per noi è una preghiera che vale per noi notate che Paolo prega che Dio aprirà i nostri occhi in modo miracoloso per farci vedere delle realtà spirituali che l'uomo non vede umanamente allora io ti chiedo tu stai guardando umanamente nelle decisioni nelle opportunità che Dio ti mette davanti per benedizione o stai guardando tutto con gli occhi umani di carnale quello che è possibile umanamente allora la preghiera è importantissimo serve a tutti a ognuno di noi Paolo dice in 16 non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo il Padre della Gloria chi il Padre della Gloria a chi stiamo pregando a quale Dio debole stiamo pregando stiamo non pregando a un Dio debole stiamo pregando al Padre della Gloria e prego che Egli vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui ed illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate le tre cose qual è la speranza della sua vocazione quali sono le ricchezze della gloria della sua realità tra i Santi è quello che voglio notare per questo insegnamento qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che chiediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che Egli ha messo un atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere la sua destra nei luoghi celesti abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri che Dio opererà per farci conoscere miracolosamente e Lui fa questo qual è la straordinaria grandezza della sua potenza nei nostri confronti noi che crediamo e nei secondi dell'efficacia della forza della sua potenza quanto è importante che conosciamo di più la potenza di Dio che opera in noi quanto potente è Dio avete visto quei due video prima puntata Dio delle meraviglie parlavano della potenza di Dio se non ricordo male una potenza che non possiamo concepire e Paolo qui prega per noi che possiamo conoscere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi perciò quando noi crediamo che ma io sono così non riesco a cambiare le cose non possono cambiare ho già provato tu non sai quante volte ho già pregato non serve stiamo dimenticando stiamo dimenticando non abbiamo mai capito l'immensità della potenza di Dio che opera in noi stiamo dubitando la capacità di Dio di operare e stiamo dubitando il cuore di Dio se noi andiamo a guardare il cuore di Dio nella Bibbia quando uno con umiltà chiedeva chiedeva a Gesù o nell'antico testamento chiedeva a Dio quando uno con cuore umile chiedeva a Dio qualcosa che era in linea con la volontà di Dio portava gloria a Dio che cuore aveva Dio? ricordate quando quell'uomo lebroso venne da Gesù si prostra davanti a lui e dice io so che tu puoi se vuoi tu puoi guarirmi effettivamente stava dicendo il tuo potere non dubito ma non so del tuo cuore e cosa fece Gesù prima di guarirlo? lo toccò diceva io voglio ha spiegato il suo cuore dimostrato il suo cuore e poi lo ha guarito si bondato Dio è potente da guarire guarirci dai nostri peccati e Dio è pronto a guarirci e quindi quanto è importante che guardiamo di nuovo a Dio guardiamo fissiamo gli occhi sulla potenza di Dio potenza che vediamo manifestata nella risurrezione di Gesù Cristo e che camminiamo per fede sapendo che lui è all'opera di noi quindi preghiamo per fede andate avanti in Efessini capitolo 2 voglio leggere da 1 a 10 Efessini 2 da 1 a 10 in questo brano leggiamo la meravigliosa verità che non dobbiamo mai dimenticare cioè che noi eravamo morti nei nostri peccati e Dio ci ha vivificati e notate che Dio ci ha vivificati per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù ricordate perché Dio ci ha vivificati e per non oggi per uno scopo eterno quello che mostrerà in quello che avrà fatto in questa vita lo mostrerà tutta l'eternità in altre parole Dio ci ha vivificati il primo passo era di alleggerci prima predestinarci prima la fondazione del mondo per poi vivificarci qua come il primo passo della salvezza eterna che Lui completerà in modo da poter mostrare l'immensità della sua grazia in noi per tutta l'eternità e perciò è certo in base a quello che Dio ha in mente da fare con noi come i trofei della sua grazia è certo che Dio completerà la sua opere di santificazione in noi Efessini 2 1 a 10 leggiamo tenendo in mente che un morto non può fare nulla un morto non chiama mai per aiuto allora leggo egli Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei fali e nei peccati nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne adempiendo i desideri della carne e della mente eravamo per natura figli di era come anche gli altri ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non per opere perché nessuno si glori noi infatti siamo opera sua creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo come ho già detto quando qua vediamo prima di tutto che eravamo morti nei nostri peccati era esatto Dio a vivificarci l'iniziativa della salvezza viene da Dio Dio ci ha dato la vita in modo che poi potevamo credere e rivederci Dio porterà avanti la sua opera in noi in modo che diventeremo una testimonianza per tutta l'eternità della ricchezza della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù in altre parole come leggiamo in Filippesi 1.6 Dio completerà la sua opera in noi saremo pienamente santificati quel peccato che oggi dice non ce la faccio non riesco ho già provato noi avremo vittoria su quel peccato in Efessini 1.4 leggo di quello che Dio farà con noi quando dice allora che in Cristo in Lui Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore nell'eternità passata Dio ci ha eletti per farci arrivare nell'eternità futura santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore l'opera di Dio ci porterà ad essere completamente santificati e irreprensibili davanti a Lui Dio non solo ci salva ma ci santifica totalmente al punto che saremo santi ed irreprensibili davanti a Lui in cielo nel suo amore davanti a Lui questo brano Efessini 2.1.10 dichiara inoltre che siamo stati creati in Cristo Gesù per con quale scopo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché camminiamo in esse in altre parole l'opera di Dio non è solo di salvarci dall'inferno ma è di operare in noi in tal modo che la nostra vita sia una vita dedicata alle buone opere opere che portano gloria a Dio che vuol dire se noi siamo in un peccato io non riesco a superare questo peccato non stiamo vivendo una vita di buone opere perché non possiamo produrre opere buone se siamo nel peccato essere compiere buone opere Giovanni 15 dimorate in me non potete portare frutto se non dimorate in me quindi se ho un peccato non confessato un peccato in cui cammino non posso portare buon frutto ma Dio mi ha salvato per le opere che lui aveva già preparate per me che vuol dire io posso avere vittoria sui miei peccati nella forza di Dio ultimo brano guardate Romani 6 Romani 6 da 1 a 18 Romani 6 1 a 18 se ricordate i Romani 1,2 una parte di 3 Paolo dimostra che siamo tutti peccatori colpevoli davanti a Dio e poi dimostra che la salvezza non è per la via delle opere ma è per fede nell'opera di Cristo sulla croce così possiamo essere giustificati capitolo 4 e 5 descrivono più a fondo che la salvezza la giustificazione è solo per fede in Gesù per grazia in capitolo 6 Paolo ci spiega che il fatto che siamo stati salvati per grazia non vuol dire che possiamo continuare a peccare piuttosto la salvezza ci porta a camminare in novità di vita seguite con me mentre leggo Romani 6 da 1 a 18 notando che noi non dobbiamo più sottometterci al peccato non dobbiamo più essere schiavi dei nostri peccati piuttosto dobbiamo sottometterci allo Spirito di Dio che opera in noi notate con attenzione qual è la nostra situazione e il nostro rapporto con il nostro peccato Romani 6 da 1 chiederemo dunque rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia niente affatto così non sia noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte affinché come Cristo è risuscitato re morti per la gloria del Padre così anche noi simulmente camminiamo in novità di vita poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua e qui fermo mi fermo stiamo parlando del fatto che quando Dio salva una persona lo battezza nella morte nella croce di Gesù Cristo letteralmente è unito a Cristo nella morte che Gesù ha compiuto sulla croce e così la morte di Cristo come la sua di quell'uomo di quella persona e così viene giustificata questo è il battesimo che lo Spirito Santo fa non è una battesima un'acqua questo è quello vero che lo Spirito va al battesimo dello Spirito Santo e allora riprendo da cinque poiché e questo sei è un sei che è un certo visto che poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua e se siamo salvati siamo saremo anche partecipi della sua risurrezione sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocefiso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più al peccato infatti colui che è morto è libero dal peccato notate quella frase colui che è morto versetto 7 è libero dal peccato ora se siamo morti con Cristo noi crediamo pure che vivremo con lui sapendo che Cristo essendo risuscitato dai morti non muore più la morte non ha più alcun potere su di lui perché in quanto egli è morto è morto al peccato una volta per sempre ma in quanto egli vive vive a Dio così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi a Dio in Gesù Cristo nostro Signore non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia infatti il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia non sapete voi che a chiunque vi offrite come serve per ubbidirgli siete serve o schiavi di colui al quale ubbidite o del peccato per la morte o dell'ubbidienza per la giustizia ora sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato ma avete ubbidite di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso ed essendo stati liberati dal peccato essendo stati liberati dal peccato siete stati fatti schiavi la parola giusta della giustizia quando Dio salva una persona quella persona viene battezzata nella morte e nella riserrezione di Gesù Cristo effettivamente quella persona è stata crocefisso con Cristo questa è la base della giustificazione ma quello che vogliamo notare è che questa realtà fa sì che il peccato non ha più il potere di rendere quella persona schiava una persona in Cristo non è più schiavo del suo peccato in versetto 7 leggiamo che è libero dal peccato è importantissimo che comprendiamo questa verità meravigliosa se noi siamo stati crocefissi con Cristo che è la realtà di ogni vero credente noi siamo liberi dal peccato quando noi abbiamo pensieri che ah ma io non riesco a superare ho già provato quei pensieri sono menzogne se noi crediamo eh ma io sono nato cresciuto così e sempre era così in casa mia eh come sono sono menzogne non sono la verità abbiamo appena letto siamo liberati dal peccato abbiamo letto all'inizio che siamo nuove creature possiamo peccare possiamo scegliere di peccare e purtroppo spesso scegliamo di peccare ma non siamo schiavi del peccato possiamo scegliere di non peccare questo è perché abbiamo la potenza di Dio all'opera in noi versetto 11 dichiara di considerarci morti al peccato ma viventi a Dio in altre parole Dio ci chiama a dire no al nostro peccato e sì a Dio grazie a Dio in Gesù Cristo abbiamo la forza di dire no non solo una volta ma volta dopo volta non siamo più schiavi del peccato versetto 12 dichiara che il peccato non deve più regnare nei nostri corpi mortali non dobbiamo più obbedire alle sue concupiscenze non dobbiamo più prestare le nostre membra i nostri pensieri i nostri occhi le nostre lingue le nostre mani al peccato piuttosto essendo in Cristo Gesù dobbiamo presentare noi stessi a Dio come strumenti di giustizia il peccato non avrà più poteri su di noi grazie a Dio siamo stati liberati dal nostro peccato e dobbiamo vivere come schiavi della giustizia grazie a Dio per questa verità meravigliosa però c'è una domanda importante noi non siamo più schiavi del peccato allora perché continuiamo a cadere nel peccato perché ci sono quei campi in cui sentiamo da dire non riesco ho provato ho confessato mi sono impegnato e ancora continuo a cadere perché cioè abbiamo letto che non siamo più schiavi abbiamo letto che abbiamo la potenza di Dio che opera in noi abbiamo sentito Filippesi 1.6 che Dio completerà la sua opera allora perché ci sono queste battaglie in cui continuiamo a cadere la risposta può essere diversa in vari casi ma molto spesso è il motivo per cui non riusciamo a superare un certo peccato che cerchiamo di superare cerchiamo di evitare e ancora cadiamo è perché stiamo ignorando un altro peccato che diventa la base di quello che vorremmo superare che non riusciamo cerco di spiegarmi con qualche esempio supponiamo che uno va a letto molto tardi sera dopo sera sempre impegnato vuole finire un film vuole leggere quello vuole finire un lavoro vuole parlare con gli amici ha sempre qualcosa da fare e tende ad andare a letto tardi ma non la vedi come peccato come problema però vedi come peccato il fatto che più delle volte non riesce ad alzarsi presto per avere il tempo col Signore prima di iniziare la giornata e sa che ne ha bisogno ma proprio ha difficoltà ad alzarsi allora prega oh Signore aiutami io cercherò prova di tutto prende un'altra sveglia e fa questo chiede un amico di chiamarlo tenta tenta ad alzarsi presto perché sa che ha bisogno di tempo col Signore eppure più delle volte non ce l'ha e capisce che danneggia il suo cammino spiritualmente moltissimo e lui prega lui piange lui grida Dio cambiami cambiami aiutami ad avere autodisciplina ad alzarmi il suo peccato di fondo non è il fatto di non alzarsi presto abbastanza il suo peccato di fondo è di non andare a letto presto abbastanza e quindi lui non riconosce quel peccato non lo vede come peccato ma mica che sto peccando non sto facendo cose sbagliate mi serve quel tempo devo finire questo progetto devo pulire la casa voglio finire quel libro stavo parlando con un amico no no è peccato perché non ha l'autodisciplina non sta usando bene il suo tempo Dio le ha dato un corpo se io non mangio abbastanza divento fiacco se io non mangio se mi servono 2000 calorie e ne mangio 1000 e non ho più da dimagrire io divento fiacco io non riesco più a lavorare come dovrei mentalmente fisicamente è uguale se io non dormo abbastanza serve andare a lettere un buon'ora per poter avere il riposo che serve al corpo e se uno si ravvede e riconosce il Signore non sto gestendo bene il mio tempo allora Dio lo perdonerà confesso il suo peccato sarà perdonato e allora può cominciare ad avere la forza di alzarsi come buona abitudine per avere il tempo ricco con il Signore questo è un esempio ce ne sono tanti altri un altro un genitore che non è costante nella disciplina con il suo figlio sui figli non è costante lascia stare tante cose sarà quasi inevitabile che quel figlio non avrà rispetto sarà quasi inevitabile che quel figlio non ubiderà bene e questo creerà in casa un'atmosfera di grande stress e tensione e molto probabilmente il genitore cadrà in qualche peccato o scatterà con ira o urlerà farà qualcosa che non dovrebbe fare provocherà a dire suo figlio suoi figli magari questo genitore oh Signore perdonami non volevo scattare così ancora perdonami non voglio fare più non voglio fare più e lui prega prega implora Dio di aiutarlo a crescere ma non cambia il fatto che lascia stare mille piccole cose finché non riconosce e confessa il peccato di lasciare stare di non avere la guida giusta con dolcezza qui creerà un'atmosfera dove lui pecherà là e può pregare quanto vuole là ma non avrà la risposta da Dio un altro esempio un credente che zoppica nel suo cammino con Cristo sa che non è spesso zelante sa che spesso pensa poco a Cristo vorrebbe essere più forte ma si trova molto spesso trascinata nella via spagliata odia il fatto di zoppicare nel suo cammino e vorrebbe tanto restare più vicino a Dio e prega oh Signore cambiami non volevo cadere ancora in quel peccato ma ancora ci sono cascato perdonami aiutami aiutami a essere forte aiutami a guardare a te ma continua a cadere mese dopo mese anno dopo anno e forse a lui sembra impossibile no io non riesco ho già provato non sai quanto ho provato quanto ho provato nulla cambia nulla cambia però se dovesse esaminare onestamente la sua vita o vuole avere qualcuno che viene accanto lo aiuta se accetta l'aiuto potrebbe riconoscere che ha certe abitudini o certe pratiche che non vanno veramente bene davanti a Dio ma non vuole abbandonarli forse ha un'amicizia spagliata forse ha certe abitudini poco edificanti forse non usa bene il suo tempo forse ha un tesoro un idolo lavoro hobby carriera qualche sport qualcosa che c'è avere una casa pulitissima e questo l'ostacola l'ostacola da investire bene per crescere l'ostacola da prendere tempo con Dio l'ostacola da avere comunione ricca con altri credenti e finché non riconosce il peccato delle scelte quotidiane e confessa e cambia non avrà quella crescita che vorrebbe avere allora il punto è che se io ho un campo in cui cado ripetutamente nel peccato e io ho confessato io ho cercato ma non cambia molto probabilmente c'è qualche altro peccato che non sto confessando infatti magari ho bisogno di parlare con qualcuno e dire senti io continuo a cadere tu mi aiuti a riconoscere cosa c'è nella mia vita che non va perché ci sarà qualcosa perché noi abbiamo appena letto Romani 1 scusate Romani 6 che siamo stati liberati dal peccato non siamo più schiavi e se io continuo a cadere c'è qualcosa che non sto facendo non sto avvelendomi da qualcosa che Dio mi offre quindi quando vi dico che il pensiero oh ma io non riesco a superare un peccato che quello è un falso pensiero ok oh ma io ho cercato di riconciliarmi con quella persona eh ma non è possibile quando crediamo che una situazione è impossibile è una menzogna anche se ci sono situazioni in cui realmente non riusciamo oggi a superare il peccato ma non perché è impossibile ma perché c'è qualche altro peccato di base che non stiamo riconoscendo e confessando quindi noi non siamo schiavi del peccato ma se ignoriamo un peccato probabilmente ci spingerà a peccare anche in qualche altro campo della vita e non riusciremo ad abbandonare quell'altro peccato finché non riconosciamo e confessiamo il peccato di base allora vorrei solo riassumere quello che abbiamo visto oggi abbiamo visto che quando abbiamo il pensiero che non possono cambiare le cose sì proviamo ma sapendo dentro che non cambieranno va bene io provo io provo va bene sei contento io provo ma so dentro che non cambierà nulla quando noi crediamo quello ok proviamo ancora non proviamo ancora ma crediamo che non cambierà la situazione stiamo credendo una menzogna stiamo credendo una menzogna anziché credere a Dio quando crediamo che un rapporto non può migliorare stiamo credendo una menzogna stiamo guardando le circostanze stiamo guardando alla nostra debolezza e non alla potenza di Dio e non stiamo camminando per fede in questi casi abbiamo bisogno di riconoscere che non stiamo camminando per fede per avere la fede abbiamo bisogno di riempire la nostra mente con le verità di Dio dobbiamo ricordare la potenza di Dio dobbiamo ricordare le promesse di Dio dobbiamo ricordare la fedeltà di Dio e dobbiamo ricordare l'amore di Dio solo così possiamo riprendere la via di camminare per fede ricordatevi che il giusto vivrà per fede vi dico già quando a te sembra impossibile cambiare non stai guardando a Dio in quello tu puoi oh signore aiutami ma non stai guardando a Dio stai guardando alla tua debolezza stai guardando a quanto spesso cadi ti dico io che non stai guardando a Dio oppure il tuo orgoglio ti ostacola da vedere dove veramente stai peccando che non vuoi toccare quel campo della vita tu vuoi cambiare qui non vuoi cambiare là allora tu chiedi a Dio qua però perdi speranze perché non vuoi ammettere che sei veramente qua abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio abbiamo bisogno di desiderare più la comunione con Dio in Cristo abbiamo bisogno di ricordare chi è Dio la sua potenza le sue promesse la sua felicità e il suo amore se riconosci nella tua vita che ci sono campi in cui non hai voluto confessare veramente certe cose confessa quelle cose ti fanno del male abbiamo la potenza di Dio che opera in noi in Cristo possiamo avere vittorie sui nostri peccati aiutiamoci gli uni gli altri a riconoscere i falsi pensieri quando uno ti dice qualcosa e riconosce che è falso cerca di aiutare quella persona quel fratello quella sorella a capire che non è vero sono ragionamenti castelli campati in aria le cose possono cambiare possiamo avere vittorie su ogni peccato siamo nuove creature siamo nuove creature camminiamo in novità di vita in attesa di Gesù Cristo preghiamo grande maestoso Dio dobbiamo venire a te con con la testa giù perché quanto spesso pecchiamo dubitando la tua potenza che opera in noi quanto spesso neanche guardiamo la tua potenza ma guardiamo la nostra debolezza quanto spesso arriviamo a credere in menzogna a credere che non è possibile cambiare perché abbiamo provato già tante volte ma il problema è che noi abbiamo provato e stiamo guardando alle nostre capacità naturali e non sono sufficienti Padre io ti ringrazio che tu gestisci tutto e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze ma non le nostre forze naturali le nostre forze che vengono da te e ti prego perciò che possiamo guardare più a te vedere più della tua potenza vedere tanti esempi come hai trasformato le persone e continuo a farlo vedere le tue promesse e vedere il tuo amore ti prego di farci riconoscere le nostre menzogne che spesso crediamo che possiamo abbandonarle e aggrapparci alla verità e ti ringrazio che tu sei all'opera ti ringrazio che tu completerai l'opera che ha iniziato in noi e ti prego per coloro che ancora non hanno la salvezza che tu opererai in loro che vedranno che hanno disparatamente bisogno di Gesù Cristo perché il giudizio sta arrivando ma c'è un salvatore Padre vogliamo camminare in novità di vita perché siamo nuove creature grazie per questa realtà fa sì che possiamo vivere la realtà di chi siamo giorno per giorno in attesa di Cristo ti prego nel nome di Gesù Cristo Amen